La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'articolo 2. Relatore, pareri. 2.52 Parere contrario. 2.100 Parere favorevole. Immaginavo. A questo punto diamo comunque 2.57. I pareri che seguono sono contrari. Io citerò alcuni emendamenti che noi riteniamo siano nella sostanza sostanzialmente recepiti dall'emendamento delle commissioni. Sì, ma questa è una questione procedurale. Questo tecnicamente, se viene approvato il 2.100, saranno magari anche preclusi. Ma noi, prima che venga approvato, e siccome non possiamo prestabilirlo, il parere comunque dobbiamo darlo. Quindi io esprimerò pareri favorevoli. 2.58 e 2.59 identici. Contrario? Favorevole. Favorevole. 2.60 e 2.61 identici? Favorevoli. 2.62 Contrario. 2.54 Palmieri? Contrario. 2.63 Nicchi? Favorevole. 2.64 identici? 2.65 piazzoni? Favorevoli. Ok. 2.66 Contrario? 2.55 Contrario? 2.67 Contrario? 2.68 e 2.69 Favorevoli? 2.70 è ritirato, non ci sono aggiuntivi al 2. Perfetto. Relatori di minoranza. Prego, onorevole Ferraresi. Li chiamo io? 2.52 Quintarelli, parere favorevole. 2.53 2.53 Quintarelli, ci rimettiamo all'aula. 2.56 Ferraresi, parere favorevole. 2.100 le commissioni. No, 2.51 Santerini. 2.51 Santerini, parere favorevole. 2.100 delle commissioni, parere contrario. 2.57 Santerini. 2.57 Santerini, ci rimettiamo all'aula. Ci rimettiamo all'aula anche per il 2.58 Palmieri e 2.59 Santerini. 2.60 Ascani e 2.61 Palmieri, parere favorevole. 2.62 Ferraresi, parere favorevole. 2.54 Palmieri, ci rimettiamo all'aula. 2.63 Nicchi. Ci rimettiamo all'aula. 2.64 Palmieri, ci rimettiamo all'aula. 2.66 Lorefice, parere favorevole. 2.55 Palmieri, ci rimettiamo all'aula.